A Rocca Costanza il museo dedicato a Dario Faux e Franca Rami. Recupero del San Benedetto, la regione fa retromarcia sui fondi. Le discoteche ora possono riaprire, ma aspettano carnevale. Il porto di Fano guarda il futuro fra arte ed eventi. Pesaro e Fano unite nel celebrare il non compleanno di Rossini. Benvenuti, buonasera. Oggi è mercoledì 9 febbraio e apriamo questa edizione del nostro telegiornale con l'annuncio arrivato questo pomeriggio. Da parte del sindaco e del vice sindaco di Pesaro, Matteo Ricci e Daniele Vimini, che è proprio questo, a Rocca Costanza verrà infatti realizzato il museo Dario Faux e Franca Rami. Si tratta di un progetto che prevede un finanziamento di 2 milioni e 350 mila euro da parte del Ministero della Cultura, che vanno ad aggiungersi ai precedenti 5 milioni e 400 mila euro, ufficializzati dal precedente accordo fra Comune, Agenzia del Demanio e Soprintendenza delle Marche, per riqualificare la Rocca. Dopo la nuova sede dell'archivio di Stato, ora si aggiunge dunque un secondo tassello di novità, con la Fondazione Dario Faux e Franca Rami, che sceglie Pesaro per realizzare un museo dedicato ai due grandi artisti. I dettagli del progetto verranno resi noti in una conferenza stampa nella giornata di domani, conferenza i cui contenuti vi mostreremo naturalmente nell'edizione di Rossini News di domani sera. E se Rocca Costanza accelera la sua riqualificazione, continua invece ad affrontare un percorso ad ostacoli il decennale progetto di recupero dell'ex complesso psichiatrico San Benedetto, che si trova proprio nel centro storico di Pesaro, un progetto che ora sembra davanti ad una nuova, brusca, frenata. Ci sono gli accordi, ma mancano i finanziamenti decisivi. A Pesaro, il recupero dell'ex complesso psichiatrico San Benedetto di corso 11 settembre, dopo decenni di immobilismo, prova a sbloccare la sua opera di ritorno alla vita, ma anziché annusare l'accelerata sperata, arriva un'altra deludente retromarcia. Così il consigliere regionale Andrea Biancani ha definito quel ripensamento della Regione Marche, che a novembre aveva preventivato distanziare 10 milioni di fondi dal PNRR per dare il via al recupero. Fondi che, secondo il protocollo d'intesa con Comune di Pesaro e Asur, servirebbero ad un recupero in termini di polo saccio sanitario e di uffici amministrativi di parte della struttura. Recupero che si abbinerebbe ai 15 milioni di euro ottenuti dal Comune di Pesaro attraverso il bando Pinqua. E invece l'ultima interrogazione in consiglio regionale di Biancani ha fatto emergere questo blocco dello stanziamento che frena il recupero dei 17 mila quadrati di ex manicomio di proprietà della Regione. Ho presentato un'ulteriore interrogazione che è stata discusa appunto nella giornata di ieri e devo dire che la risposta è stata una sorpresa, nel senso che l'assessore ha in qualche modo fatto una vera e propria retromarcia rispetto a quanto annunciato pochi mesi fa. Infatti è stato annunciato che i fondi del PNRR a disposizione della Regione non saranno utilizzati per la parte di competenza regionale, quindi per il suo recupero appunto della parte regionale. Ovviamente l'assessore ha anche dichiarato che cercherà di, nelle prossimi mesi, forse anche anni, di prevedere ulteriori risorse. Io penso che questa è un'occasione sicuramente mancata, anche perché il Comune ha l'obiettivo di presentare il progetto esecutivo entro il 2022, deve iniziare i lavori entro il 2023 e sarebbe stata un'occasione unica riuscire a portare avanti i due cantieri, se non magari nello stesso momento, ma con una tempistica sfalsata di poco. Così non sarà, perché a tutt'oggi, nonostante le promesse che sono state fatte, prima attraverso la firma del protocollo dove si sono spesi determinati impegni. Oggi, con la ripartizione dei fondi del PNRR che sono dedicate anche al recupero delle strutture sociosanitarie, mi sarei aspettato tutto, tranne che una vera e propria elettromarcia rispetto a quello che è l'impegno peso poche settimane fa. Restano stabili i dati sui contagi e ricoveri in questa giornata di mercoledì. Nel dettaglio sono 3.213 nuovi episodi di contagio da Covid nella Regione Marche, di cui 597 nella provincia di Pesaro Urbino. 367 i ricoveri in Regione, di cui 51 in terapia intensiva. Oggi si sono registrati otto decessi di età compresa fra 57 e 92 anni. Contagi che allentano la morsa e portano ad altre riaperture, come quelle delle discoteche dei locali da ballo, che da venerdì possono riprendere l'attività. Ma come possiamo vedere da questo primo servizio, in provincia di Pesaro Urbino non si registra una vera e propria corsa alla riapertura. Sabato 12 febbraio riaprirà il Miu Disco Dinner, ma la discoteca di Marotta sarà l'unica a riprendere l'attività in provincia di Pesaro Urbino. Tutte le altre invece temporeggiano rispetto al via libera concesso dal governo ai locali da ballo, ai quali viene data la possibilità di riprendere l'attività da venerdì 11 febbraio. Un'attività concessa al 50% della capienza al chiuso e al 75% all'aperto, naturalmente con obbligo di Green Pass. Si riaprono i battenti dopo la chiusura obbligata dal 30 dicembre scorso, ma le ferite di mesi di chiusure sono troppo profonde e non manca chi preferisce riaprire con cautela, come confermato dal sindacato dei locali da ballo di Pesaro Urbino. Innanzitutto speriamo che ci sia l'apertura, perché da decreto all'11 si può aprire, ma sappiamo per esperienza purtroppo passata che possono cambiare le cose anche il giorno prima. Quindi l'augurio è quello di poter aprire innanzitutto. Poi sicuramente ci sarà un'apertura molto a rilento, considerando anche il periodo stesso. Magari chi aprirà si attrezzerà per aprire per le feste di carnevale, che sono sicuramente più appetibili dal punto di vista economico. Ci sono imprese che sono due anni ormai chiuse, a parte qualche mese, e che non vedono l'ora di ripartire, ma vogliono ripartire per non dover richiudere più. Quindi si cerca la massima serietà, anche da parte di chi ci deve dare l'ok per riaprire e non a spot. La polizia di Fano ha individuato un 39enne colpevole di aver dato alle fiamme e distrutto quattro cassonetti Aset a Fano in via Lambruschini e Don Bosco lo scorso 11 gennaio in via Dante Alighieri il 31 gennaio e l'ultimo, proprio la notte dell'8 febbraio, in via Cecconi. La polizia era risalita a questo personaggio proprio per simili precedenti risalenti al 2005 e dopo serrate indagini l'ha colto sul fatto la notte scorsa. Il 39enne è stato deferito alla Procura della Repubblica di Pesaro per il reato di danneggiamento seguito da incendio. Oltre a Pesaro, che per mezz'ora terrà al buio Piazza del Popolo, anche Fano aderisce alla serata di domani Luci Spente nei Comuni, organizzata da Lanci. Dalle 20 alle 20.30 il Comune di Fano spegnerà le luci dei monumenti del Pincio, delle Mura, della Mandria per sensibilizzare il governo al caro Bollette. Nasce il pronto intervento sociale. Si tratta di un nuovo servizio dell'ambito territoriale sociale 1 il cui Comitato dei Sindaci è ora presieduto dall'assessore pesarese Luca Pandolfi. Attraverso un numero di telefono dedicato saranno messe costantemente in relazione Forze dell'Ordine, assistenti sociali e operatori dei centri antiviolenza per garantire nella maniera più rapida e accurata ogni emergenza di tipo sociale. 24 ore su 24 sui 7 comuni dell'ambito Pesaro, Gabicemare, Gradara, Monbaroccio, Montelabate, Tavuglia e Vallefoglia. Domani 10 febbraio ricorre il giorno del ricordo e il Comune di Pesaro organizza un appuntamento commemorativo dedicato agli studenti per non dimenticare la tragedia delle foibe. Si tratta di una videoconferenza dal titolo Il mare non divide, unisce che sarà realizzata dal Cippo di Trebbia Antico dedicato agli esuli Giuliano Dalmati appuntamento che sarà trasmesso in diretta su Rossini TV domani dalle 9.30 con gli interventi delle autorità e dei testimoni dell'esito Giuliano Dalmata e dell'accoglienza degli esuli in cui nel secondo dopoguerra fu protagonista la città di Pesaro. Al via a Fano l'iniziativa Porto Futuro si tratta di un progetto ambizioso per la riqualificazione dei capannoni dell'area portuale a cavallo tra street art e realtà aumentata un progetto che prevede anche un ricco programma di eventi fra musica e performance multimediali. Vediamo il servizio di Simone Celli. L'arte nella sua forma più autentica la tela niente meno che il porto di Fano c'è soprattutto questo alla base di un nuovo progetto che prevede la riqualificazione dell'area portuale attraverso numerosi esempi di cittadinanza attiva. Si chiama, non a caso, Porto Futuro. L'idea è quella di concedere una seconda giovinezza ai capannoni che campeggiano nella zona. Strutture dall'estetica industriale da rivitalizzare attraverso l'arte così da trasformare l'area in un polo creativo, sì ma anche in un'attrazione per turisti. Il progetto Porto Futuro nasce da un'idea comune mia di Filippo Rosati, di umanismo artificiale e praticamente prevede il riabbellimento di alcune facciate del porto di Fano attraverso una ripitturazione attraverso un murales di artisti nazionali e internazionali con l'aggiunta della realtà aumentata. L'hanno già fatto diverse capitali europee. Ora tocca la città della fortuna. Si comincia questo mese con dei laboratori aperti per la realizzazione di un dossier sulla base del quale alcuni street artist proporranno dei bozzetti poi valutati da una giuria per la successiva realizzazione dei murales sui due capannoni di fronte al pesce azzurro. Opere che prenderanno letteralmente vita attraverso i nostri smartphone grazie alla realtà aumentata. La realtà aumentata fondamentalmente consiste nella realizzazione oltre al murales di un QR code che rappresenterà poi l'animazione del murales stesso. Tutto questo lavoro ovviamente sarà agevolato e compartecipato dal Comune di Fano, dalla Regione Marche e dalla Fondazione Carifano. Vedrà anche la realizzazione di diversi eventi collaterali come performance installative di vari artisti sempre nazionali e internazionali all'interno del Porto di Fano e vedrà anche la realizzazione di alcuni eventi di musica e di partecipazione cittadina a questi eventi grazie anche alla realizzazione di momenti di condivisione attraverso eventi fieristici con food track e attività per i bambini e quant'altro. Questo progetto verrà realizzato durante l'arco di tutta l'estate quindi partirà da maggio e terminerà in agosto. Siamo ad annunciare oggi un progetto strutturato che riguarda la nostra città e come destinazione nello specifico alla zona del Porto che si realizzerà attraverso sia un'opera distrittarte di alcuni edifici privati e quindi per quanto riguarda l'abbellimento e il miglioramento di un'area che a volte sembra dismessa ma non lo è perché all'interno ci vivono delle realtà ci sono delle persone che ci lavorano e lavorano proprio per il nostro mare per rendere produttiva anche la nostra città. È un processo che sarà partecipato da tante realtà e sarà quindi la sintesi di tutto un dialogo che avremo con i bambini, con gli anziani con le persone che riguardano che comunque vivono all'interno di associazioni culturali ma anche associazioni marinarie saranno proprio loro a darci le indicazioni su come poter fare poi esprimere i nostri artisti nazionali e internazionali che si candideranno a questo progetto. È chiaro che parallelamente a questo proprio perché è un progetto partecipato ci sarà anche un momento di vera festa con determinate iniziative che si svolgeranno nel perimetro dell'area. La Regione Marche sostiene con 35.000 euro questa bellissima iniziativa futuristica che parte da umanismo artificiale e da Carnegie Event in collaborazione con il Comune di Fano. È veramente un progetto innovativo che coniuga giovani, arte e innovazione. Quindi da parte nostra ci siamo e ci saremo e veramente siamo felici di contribuire in maniera sostanziale a questo importante progetto. Questo 2022 non è bisestile e dunque si avvicina a un altro non compleanno per Gioacchino Rossini che nacque il 29 febbraio 1792. Appuntamento che Pesaro celebra con ben 12 giorni di eventi due settimane rossiniane in cui nell'occasione Pesaro rafforza il legame con Fano nelle sue celebrazioni. Il prossimo bisestile sarà nel 2024 anno che ovviamente già ci disse molto in termini di evocazione incrociando le dita e tutto quello che possiamo per la sfida della capitale italiana. Nel frattempo accontentiamoci in senso ironico del non compleanno che è questa idea creata ormai già dal 2015 per celebrare in festa Rossini nella settimana appunto in cui avrebbe compiuto gli anni e in cui tutte le arti e tutte le istituzioni culturali della città e del territorio partecipano facendo la propria parte. Il clou sarà l'appuntamento legato al Tancredi con il Rossini Opera Festival del 27 febbraio e terremo tra l'altro in via escezionale ringraziando dell'ospitalità ma è una scelta che ha molto a che fare con un'idea di capitale italiana che giocheremo su tutta la provincia quindi si terrà al Teatro della Fortuna di Fano e anche ovviamente poi i giorni in cui da la danza ai racconti a educational i giri per la città fino a naturalmente l'importantissimo 28 di febbraio affidato in questo caso al Conservatorio Rossini che fa coincidere con questa data storicamente anche all'inizio dell'anno dell'anno accademico insomma tutte le arti tutte le realtà fino anche agli spettacoli per i più piccoli che contribuiscono a festeggiare a festeggiare Rossini. Il miracolo di 16 appuntamenti in 12 giorni non sarebbe potuto accadere senza la collaborazione davvero dei tanti soggetti di tante istituzioni che sono attive per questo non compleanno insomma ormai è diventato un appuntamento fisso e ogni anno è l'occasione per ripensare a Rossini sia nella filologia pura penso al lavoro incredibile che fa la fondazione Rossini e Rossini Opera Festival ma anche attraverso degli sguardi assolutamente insomma distopici ma anche molto divertenti penso al debutto dello spettacolo dei Cataclò dedicato a Rossini penso addirittura a una invenzione di una biografia di un nuovo compositore per risuonare poi Rossini attraverso dei sintetizzatori elettronici anni 80 quindi davvero un attraversamento e un modo per conoscere Rossini anche quando sembra sembra che ne prendiamo un pochino più le distanze con un ultimo omaggio di non compleanno da non compleanno a non compleanno anche un omaggio a Lucio Dalla che appunto avrà il suo compleanno proprio il giorno dopo dell'evento con Peppe Servillo quindi davvero 16 eventi 12 giorni una grande festa che rianima Pesaro in un momento molto importante perché incorniciamo anche la discussione per questa bella occasione di finalista capitale 2024 e cambiamo argomento perché si avvicina a San Valentino che oltre ad essere il giorno degli innamorati è anche un momento sempre movimentato per il commercio di fiori questa mattina le nostre telecamere si sono accese al Giardino di Santa Maria per capire come la categoria si avvicina a questo momento fra la ricorrenza e i rincari che hanno toccato appunto questa categoria Siamo al Giardino di Santa Maria in una di quelle settimane che vengono un po' cerchiate in rosso nel programma annuale quella che porta a San Valentino un momento sempre importante le chiedo come si avvicina la vostra attività a questa data Allora sicuramente sì è importante è un po' una luce nel buio diciamo che gennaio-febbraio sono dei mesi più tranquilli a livello di lavoro arriviamo dal grande dal grande entusiasmo natalizio e passiamo invece a dei mesi in cui stiamo comunque più in casa usciamo di meno poi voglio dire con tutte queste restrizioni che abbiamo avuto stiamo proprio più in casa tante quarantene tante non è un lockdown vero e proprio però la gente si vede che si muove malvolentieri invece San Valentino è veramente una luce nel in questo panorama di di letargo quindi noi come ci avviciniamo ci avviciniamo preparando lavorando comprando le cose all'estendo tenete conto che noi lavoriamo con un prodotto fresco quindi non è che lo possiamo lavorare un mese prima lo lavoriamo all'ultimo momento per avere sia la qualità che la freschezza dei fiori e la maggior durabilità in casa per cui noi ci fermeremo a lavorare tra sabato e domenica per avere il prodotto fresco il lunedì per questo 2022 diciamo che il classico sono sempre le rose quindi l'originalità non c'è nel prodotto perché le rose sono le signore di questo momento e poi le rose rosse poi dopo è chiaro che si cerca sempre di andare a fare delle composizioni un pochino particolari l'inserimento dei vasi di vetro l'inserimento di altri materiali all'interno delle composizioni colpire magari anche con delle altre tipologie di fiori non solo rose in questo periodo sono bellissimi tulpani di amarillis tutte le bulbose quindi andare a creare dei mazzi misti un po' più meno pomposi delle rose rosse lei ha nominato gennaio e febbraio come mesi calmi per quello che è la vostra attività ma purtroppo quanto mai movimentati per quello che sono i rincari dell'energia delle utenze è una tematica che non vi vede immuni dalla situazione assolutamente no purtroppo per far venire i fiori per farli fiorire in questo periodo c'è bisogno del riscaldamento quindi anche noi siamo costretti ad adeguarci alle altre categorie cioè non è che siamo fuori dal mondo perché vendiamo i fiori i fiori vanno contestualizzati come tutte le altre materie materie prime per cui c'è un riscaldamento c'è l'aumento della luce le serre vengono appunto alimentate e quindi abbiamo bisogno anche noi di di più energia per produrre quello che magari negli altri anni veniva prodotto con meno energia adesso c'è bisogno di più energia quindi comunque noi abbiamo visto una variazione di prezzi all'acquisto delle cose un po' già a San Valentino è sempre il periodo in cui i prezzi rincarano perché c'è una maggiore richiesta e quindi c'è un maggior innalzamento un po' dei prezzi però abbiamo cercato di comprare da produttori che avessero mantenuto una certa costanza qualche rincaro c'è stato è inevitabile perché tanto lo vedete nelle bollette lo vedete dappertutto quindi anche noi non siamo immuni e concludiamo con lo sport questo pomeriggio avete potuto assistere sugli schermi di Rossini TV al ritorno in campo dell'Ital Service dopo oltre un mese di stop del campionato di Serie A Ital Service che ha pareggiato per 4 a 4 sul campo laziale del Ciampino Aniene passando al calcio il presidente dell'Alma Juventus Fano Mario Russo dopo 48 ore in cui aveva annunciato le sue dimissioni a causa delle scritte offensive a lui recapitate all'ingresso dello stadio domenica scorsa ha fatto invece un passo indietro e in conferenza stampa ha assicurato che andrà avanti nel suo impegno alla guida della società Granata Eccoci arrivati alla fine del nostro telegiornale ma come sempre vi ricordiamo di rimanere su Rossini TV perché questa sera in prima serata c'è la quinta puntata di Qua la Zampa un approfondimento con Giacomo Lucchetti il pilota che vedete appunto nell'immagine insieme alla sua cagnolina e anche grazie ad Antonio Astuti tanti servizi che raccontano e vi danno dei consigli sui nostri amici a quattro zampe andremo nei canili andremo nei gattili e parleremo anche di opere per tutelare appunto gli animali quindi non perdetevi la puntata di questa sera alle 21 e 20 e poi vi ricordiamo la diretta di domani mattina ringraziamo il comune di Pesaro che ha scelto Rossini TV per realizzare questa importante diretta del giorno del ricordo partirà alle 9 e 30 ci sarà il contributo del conservatorio Rossini ci saranno appunto degli interventi molto importanti le istituzioni e poi il tutto si concluderà con la relazione della professoressa Adriana Ivanov mentre venerdì 11 febbraio alle 18 e 30 se vi collegate su Rossini TV canale 633 oppure ci seguite attraverso la nostra pagina facebook in diretta troverete la trasmissione della messa dedicata alla giornata del malato siamo arrivati davvero alla fine del nostro telegiornale adesso vi lascio con il meteo per sapere come sarà appunto il tempo i prossimi giorni invece per continuare ad essere informati su Rossini TV l'appuntamento è per domani mattina alle 7.20 in diretta con la nostra rassegna stampa buona serata grazie